Tra le iniziative di sensibilizzazione sull'eliminazione della violenza sulle donne, quella dell'Aurum di Pescara, protagonisti gli studenti di sette scuole superiori, Acerbo, Belisario, Classico, De Cecco, Di Marzio, Marconi e Volta. Ragazze e ragazzi hanno partecipato numerosi e con entusiasmo ai seminari e ai laboratori proposti per ascoltare, riflettere e anche per testimoniare. Del resto oltre la famiglia, la scuola su questo tema assume un ruolo fondamentale. Sentiamo nell'ordine una docente, un'operatrice del centro CAM, uno psicologo e naturalmente i ragazzi. È anche vero che oggi i ragazzi sono molto sensibili a questo argomento e bisogna far capire che la violenza non porta frutto ma che l'amore porta il frutto e soprattutto anche nelle parole perché noi pensiamo sempre alle mani e è qualcosa che va oltre come l'omicidio ma invece bisognerebbe iniziare a parlare proprio dalla parte verbale, come ci si pone di fronte a una donna. Noi al centro Ascolto Maltrattanti lavoriamo purtroppo con gli uomini che hanno già agito violenza ma in questa giornata con i ragazzi abbiamo voluto aprire uno spaccato proprio sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione. Abbiamo cercato di attivare i ragazzi e quindi di sentire soprattutto il loro punto di vista perché pensiamo che è da lì che possiamo partire per un vero cambiamento culturale. Quando si parla di violenza naturalmente non è soltanto quella fisica che è quella più evidente magari ma violenza psicologica, coercizione, minacce. Assolutamente, i tipi di violenza sono molto diversi perché questa si manifesta sotto diverse forme. Abbiamo detto quella sessuale, quella fisica ma c'è anche quella psicologica ed economica che non se ne parla moltissimo ed è importante perché non permette alla persona, in questo caso magari una donna, di essere libera di gestire la parte economica della famiglia. Che cosa ti è arrivato da questa giornata? Sicuramente è stata una giornata molto importante per fare esperienza su questi eventi che si verificano molto spesso al giorno d'oggi e credo sia molto importante per prevenirli anche in futuro nei nostri casi. Penso che sia importantissimo che la scuola per prima si impegni per prevenire ogni forma di violenza e quindi fra le tante anche questa qui. Quindi questa iniziativa penso sia possa essere molto costruttiva. Vediamo se sei preparata. Il colore di questa giornata qual è? Il rosso. Perché? Penso si riferisca, abbia un'analogia col sangue che è un qualcosa che noi assolutamente non dovremmo mai vedere sul corpo di una donna. Professoressa, abbiamo sentito anche i ragazzi che hanno detto stiamo imparando diverse cose. Voi come docenti cosa imparate? Allora noi come docenti impariamo da loro, con loro e ci rendiamo conto che la società è cambiata. Ci rendiamo conto comunque che la violenza non è un problema solo degli ultimi anni, ma è giusto che se ne parli di più ed è giusto che se ne parli anche tra i banchi di scuola perché questi ragazzi saranno i futuri cittadini, saranno il nostro futuro ed è giusto che crescano con un'idea chiara di rispetto a prescindere. A volere la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo ricordiamo, è stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con una risoluzione che risale al 17 dicembre del 1999. Come visto il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna allineate nelle piazze o nei luoghi pubblici a rappresentare proprio le vittime di violenza e femminicidio. Nel pomeriggio, sempre all'Aurum, è stato proiettato Amore in Codice Rosso, il cortometraggio realizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Il video ideato dalla Presidente Franca D'Agostino e Franca Terra è il racconto di una storia vera, una storia di violenza interpretata dall'attrice Tiziana Di Tonno, diretta da Antonio Di Loreto. I dati del resto sono impietosi. In Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni e i casi di femminicidio sono all'ordine del giorno nelle cronache nazionali. A ciò si aggiunga che quasi tutte le vittime sono colpite da mariti, ex mariti, compagni o ex compagni, un elemento che nasconde una incompiutezza maschile, per dirla tutta, una sorta di inadeguatezza. Accanto agli incontri con gli studenti è anche una mostra internazionale d'arte contemporanea a violenza di genere ispirato al romanzo Il respiro del volo di Donatella Piras. Qui gli studenti del De Cecco si occupano dell'accoglienza con una consegna particolare. Sara Di Giovanni avete scelto questa frase emblematica, voi Diana anche, per troppe donne la violenza, purtroppo, aggiungo io, è pane quotidiano. Sì, sono 15 anni che portiamo avanti queste iniziative, siamo stati per le piazze di Pescara, invece quest'anno ci troviamo qui all'Aurum, insieme ai ragazzi dell'alberghiero De Cecco distribuiamo questo pane e con la collaborazione del panificio Giglio, che ci dona gratuitamente il pane per dare questo messaggio che per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano. Professore, se è vero che nel vostro istituto c'è uno sportello Ananche? Sì, è assolutamente vero e da cinque anni la nostra dirigente ha accolto la richiesta dei ragazzi, la nostra dirigente è la professoressa Alessandra Di Pietro, particolarmente sensibili a queste tematiche, ha fatto in modo di accogliere uno sportello di ascolto nel nostro istituto e capitanato dalla dottoressa Brunella Capisciotti, che è la presidente dell'associazione Ananche. Questi ragazzi, non so chi vuol parlare, il più coraggioso, come sta andando la distribuzione di questo pane? Allora, va bene, perché comunque ci sono molti spettatori, molte altre scuole con noi ovviamente ad assistere a questo evento, quindi noi li distribuiremo ovviamente a tutti quanti, a tutti quelli che passeranno, insomma. Incontrate un certo entusiasmo? Sì, sì, siamo molto contenti perché vediamo anche i ragazzi molto partecipi a questo evento, ascoltano con molto piacere, quindi sì. Fermare la violenza di qualsiasi tipo contro donne, uomini, bambini, anziani, si potrà mai arrivare a questo? Io me lo auguro e penso che sia un tema importantissimo e fondamentale che bisogna risolvere e mi auguro che in futuro si possa, diciamo, non parlare più di questo tema, appunto perché sconfitto. So, adesso ho già fatto questa domanda a un altro docente, è una giornata soprattutto dedicata alle scuole, quindi agli studenti, però voi siete docenti, che cosa imparate voi da queste giornate? Allora, questi per noi sono degli spunti, dei momenti di condivisione che però poi continuano in classe perché non ci dobbiamo fermare ovviamente solo a questa giornata, è una riflessione a livello educativo sia per le ragazze che per i ragazzi che deve continuare per tutto l'anno. È un argomento che si deve approfondire perché purtroppo dopo anni e anni di storia se ne parla ancora e quindi niente, speriamo che ad oggi i ragazzi possano comprendere quello che in realtà si prova ed evitarlo. Chiusura con un pluricampione mondiale di Muay Thai che ha evidenziato l'importanza del dialogo con i ragazzi. I ragazzi hanno fatto emergere questa necessità di dialogo che a quanto pare nonostante tutti questi social, questi mezzi di comunicazione è sempre meno e questo è anche violenza e sono stato loro a denunciarlo. Credo che sia un messaggio importante che valeva la pena comunicare. Come faccio io, barriero, a fare venire, io regno bene, a fare venire fuori la vita?